Amici cacciatori, ci ritroviamo a parlare di una delle esperienze più coinvolgenti per noi che amiamo l'avventura. Parliamo di viaggi venatori, siamo questa volta in Bosnia-Herzegovina, nel cuore dei Balcani e siamo in pieno inverno a caccia di due selvatici che rappresentano il sogno di tanti appassionati cinofili, beccacce e coturnici. Questi due selvatici infatti a cui i cacciatori hanno attribuito gli epiteti di regina del bosco e regina delle rocce viene dedicata tutta la passione e la dedizione dell'agenzia che ci ospita. Sono qui infatti con Ilia Zopko, grande cacciatore, guida e organizzatore appunto di viaggi venatori per questa agenzia che prende appunto il nome di Due Regine. Ilia, allora da oltre vent'anni guidi tanti appassionati cacciatori tra i boschi stupendi e le montagne di questa regione. Mi dicevi che tutto qui è incentrato sulla qualità. Sicuramente questo è un posto per veri cinofili, per coloro che danno estrema importanza quindi all'azione dei propri cani, alle emozioni che trasmettono le azioni ben compiute dai cani e ovviamente tutto quello che può trasmettere un territorio così aspro per tanti punti di vista ma anche selvaggio e quindi incontaminato. Qui le giornate di caccia trascorrono veloci ed intense dalle vette ai fondovalli boscosi. In realtà i programmi di caccia iniziano già nella stagione estiva infatti negli altopiani cacciate anche le quaglie per coloro che vogliono abbinare alla caccia con i cani da ferma anche tortore e colombacci nel periodo estivo dal primo agosto e si protrae poi durante la stagione autunnale. Con l'arrivo dell'autunno e l'apertura della caccia alla cuturnice nel primo di ottobre si entra poi ovviamente nel vivo della stagione per proseguire con l'arrivo delle beccacce che qui svernano. Sono prima di passaggio a novembre ma restano durante tutto il periodo invernale fino alla fine di febbraio. Con la fine della stagione venatoria non termina sicuramente la passione per la cinofilia infatti qui si può continuare ad addestrare a fare addestramento cani vero Ilia? Sì sì quando finisce caccia offriamo terreni per allenare e adrestare cani giovani sulle beccacce anche coppie di cotorne. Raggiungere questi luoghi di caccia è estremamente semplice soprattutto per chi arriva dall'Italia centrale sfruttando i vari porti che si collegano a Spalato altrimenti affrontando il viaggio in macchina che è un po più lungo ma sicuramente offre anche l'opportunità di osservare durante il viaggio dei paesaggi straordinari. Una volta arrivati sul luogo verrete accolti da Ilia e anche da un giovane collaboratore italiano Filippo Maria Guivi che aiuta Ilia nell'organizzazione da qualche anno e verrete poi ospitati in comodi alloggi in alberghi a tre stelle o nella casa di caccia nel periodo estivo che si trova invece in montagna. Noi siamo al secondo giorno di questa bellissima avventura eravamo fermi qui adesso per una pausa e andiamo a riprendere le nostre ricerche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Porta bello, bravo bello. Porta, porta. Grazie a tutti. 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 Noi. Grazie a tutti.